Occhio alle bollette, l'invito più o meno esplicito da parte di Feder Consumatori Taranto che fa riferimento a lettere di cambio unilaterale dell'offerta di energia inviate senza il rispetto delle norme di legge. Il presidente Antonello Zicari e l'avvocato Giovanni Cianci parlano di bollette del gas di 800, 900 e a volte oltre 1000 euro consegnate a impiegati, operai e pensionati che si trovano davanti alla scelta di pagare la bolletta o di fare la spesa. Feder Consumatori Taranto parla di azioni non chiare e rispettose dell'utenza da parte di Enel Energia che non avrebbe informato compiutamente sull'aumento delle tariffe e sulle diverse disposizioni contrattuali. Il problema investe le bollette dicembre, febbraio e marzo quando hanno avuto termine i tre mesi di garanzia previsti dall'autorità garante della concorrenza del mercato. Feder Consumatori sta raccogliendo centinaia di rimostranze da parte di consumatori inviando comunicazione relativa a Enel Energia. Le risposte vengono definite imbarazzanti e sprezzanti, imbarba ad ogni garanzia posta in essere dallo Stato nei confronti dei cittadini. L'Associazione a tutela dei consumatori Taranto invita quanti si trovassero in questa situazione a raggiungere la sede di Feder Consumatori anche in virtù dell'istruttoria aperta proprio nei confronti di Enel Energia da parte dell'autorità garante della concorrenza e il mercato.